Un'estate a Monbaroccio sarà un'estate ricca di eventi e di tante cose che state inanellando come proloco. Sì, continuano gli eventi per il mese di agosto, gli eventi estivi, e partiamo con due mostre d'arte dell'artista Renato Arzeni, una nella chiesa di San Marco a Monbaroccio e una per la prima volta all'interno del Chiostro del Beato Sante. Quindi un motivo in più sia per vedere il Chiostro, che è una location molto suggestiva, e per poter visitare anche questa mostra di Renato Arzeni. Continuano gli eventi di altri generi, dalla passeggiata naturalistica, Sapore e Panorami del 12 agosto, a Montemarino, che consente di visitare sia dei posti alternativi a Monbaroccio e assaporare comunque cenare insieme, come si cenavano una volta nell'aia di un casolare, nel Casale Spadoni. Agosto è il mese del Beato Sante, noi lo chiamiamo perché ricorrono le celebrazioni delle domeniche, dalla festa dei bambini alla prima domenica, per proseguire con il pellegrinaggio votivo di Montefabri e la tradizionale festa del voto. Si conclude il mese in bellezza con la festa della Tagliatella, che oramai è famosissima in tutta la provincia, e non solo, il 18, il 19, il 20, il 21 agosto. Stiamo lavorando perché il prossimo anno ricorrono i 500 anni del Beato Sante, quindi stiamo lavorando assieme ai frati del Santuario del Beato Sante, assieme a tutti i volontari della Proloquia e all'amministrazione comunale, per organizzare un evento che sia di rilievo nazionale, e anche perché no, lavorare sulla santificazione del Beato Sante Brancorsini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.